I corsi di formazione finanziati dalla Regione Toscana aiutano a trovare il lavoro. Chi li ha frequentati, nel 65% dei casi, ha sperimentato un avviamento al lavoro. I dati sugli esiti occupazionali derivanti da questi corsi sono stati presentati oggi dall'assessore regionale a formazione, istruzione e lavoro, Cristina Grieco, insieme al direttore di IRPET, Stefano Casini Benvenuti e a Massimo Bressan di Iris. I numeri si riferiscono al periodo 2014-2020 e indicano una situazione positiva. Dai macro dati sull'abbandono scolastico che insomma ci pone ai vertici italiani perché lo abbiamo ridotto tantissimo, siamo a livelli europei, sul tasso dei NIT per cui siamo migliori addirittura delle regioni che vengono sempre prese come eccellenze in Toscana, siamo migliori di Veneto ed Emilia Romagna per esempio, sul tasso di conclusione degli studi terziari, quindi insomma i dati c'erano. Siamo andati a vedere effettivamente quanti cittadini, quanti disoccupati che hanno frequentato un corso di lavoro a sei mesi di distanza hanno avuto un ingresso nel mercato del lavoro e la percentuale è pari al 65%. Un dato nettamente superiore a quello dei sette anni precedenti, quando l'avviamento al lavoro riguardava solo il 40% di coloro che facevano corsi. Greco ha chiarito i pilastri su cui si è formato il ripensamento del sistema formativo. Orientamento al risultato, cioè trovare occupazione ai partecipanti ai corsi, alleanze tra scuole, università, agenzia e imprese, costruzioni di filiere formative e un forte ruolo di programmazione e controllo svolto dalla regione toscana.